Conscienza e gioco Clementoni, il grande spettacolo della scienza, finalmente è nelle tue mani! Esplora il mondo dei dinosauri con il Parco Giurassico, dai vita ai Triops e scatena sorprendenti eruzioni vulcaniche. Con il Parco Giurassico ricrea l'affascinante mondo della preistoria, dai vita agli incredibili Triops e a straordinarie eruzioni vulcaniche.